questo è un occhio, un adrecchio, eh Mauro? fine struttura, altro che quasi un record di profondità sul calcio se arriviamo fino al fiume si 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 siamo sempre più fondi, ecco il covarto ha cominciato bene che a soffiare da più tanto anche la temperatura fuori viene proprio il vapor su del ricca, guarda che roba ciò, se vedi che la si è calda, Mauro